Le tre regole per avere dei gerani sempre in forma. La prima regola, con una forbice anche da cucina, eliminare le parti sfiorite della pianta e le foglie secche o malate per avere la pianta sempre sana e tenerla in forma compatta. Seconda regola, concimare abbondantemente le nostre piante con concime granulare, tre volte l'anno, all'inizio della primavera, all'inizio dell'estate e all'inizio dell'autunno, ricordatelo. La terza regola è la più importante, prevenire meglio che curare. Per evitare che durante la stagione vegetativa i nostri gerani vengono attaccati da insetti o parassiti, è necessario utilizzare un insetticida sistemico che entra in circolo nella pianta ed ha un periodo quindi di copertura molto lungo nel tempo. Utilizzerò dei bastoncini di insetticida che verranno conficcati nel terreno e con le bagnature regolari nel tempo si disperderanno e verranno assorbiti dalla pianta. In questo modo il nostro geranio crescerà sano e vigoroso.